ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 28 novembre 2023 e vediamo subito chi è il santo del giorno perché è un santo molto molto vicino a noi eccolo è san giacomo della marca visse nel quindicesimo secolo nacque a monte brandone in provincia di macerata francescano allievo di san bernardino da siena la sua vita in realtà è un romanzo di avventure ha girato tanto l'europa ha fondato conventi ha predicato ha combattuto le eresie ha illustrato concili e congressi e ha compiuto diversi miracoli è un santo caro per quanto riguarda la nostra regione e beh un culto particolare lo merita perché insomma è molto vicino a noi un santo francescano e vediamo ora le previsioni del tempo vediamo che il tempo è perturbato nella giornata di oggi vediamo la grafica perturbazione in transito tra la notte e la mattinata con piogge e rovesci sparsi il miglioramento seguirà nel corso del pomeriggio con schiarite anche ampie i venti i venti sulle coste respireranno con una tensione media da sud nell'interno da ovest e sud ovest le temperature 6 la minima 11 la massima il mare è particolarmente mosso ebbene con questo tempo siamo in autunno inoltrato e quindi questa è la stagione propria diamo un'occhiata ai giornali per vedere le notizie del giorno apriamo il corriere adriatico il corriere adriatico apre la sua pagina su fano con i cantieri che si stanno svolgendo lungo viale battisti da piazza rosselli giù fino all'anfiteatro rastat una zona importante dal punto di vista turistico ma anche di collegamento tra il centro storico di fano e la zona mare vediamo subito il titolo garage sbarrati transito pericoloso che incubo il cantiere di viale battisti i residenti scrivono al sindaco massimo seri bene il recupero ma così non si va avanti l'elenco delle richieste ebbene benedetta la riqualificazione di viale battisti perché viale battisti veramente è in condizioni molto molto precarie modo particolare anche i vialetti pedonali che sono accanto ebbene però i residenti vorrebbero che anche nel corso dei lavori la viabilità fosse consentita e fosse agevolata ci sono parecchi problemi che vengono evidenziati qui abbiamo anche delle fotografie che il corriere adriatico pubblica per evidenziare i problemi occorre ovviamente rifare il fondo stradale occorre deviare il traffico e questo crea diverse difficoltà ma lasciamo i problemi a decantare su viale battisti e vediamo le altre notizie la notizia di cronaca campeggia nella seconda pagina in apertura del corriere adriatico è un'azione fatta dai carabinieri di fano della sezione di fano che fa parte della compagnia appunto governata dal comandante maximiliano papale mentre la sezione è comandata da mario facciolla che cosa hanno fatto i carabinieri carabinieri tengono molto sotto controllo in questi giorni che poi si avvicinano al natale in modo particolare le zone più sensibili del centro storico quali il pincio quali piazza amiani la i giardini della rocca malatestiana e anche la stazione ferroviaria ebbene nel centro storico i carabinieri hanno individuato un 42 n mi sembra vediamo un attimo se ritrovo l'età un 40 dn che tramite i cani antidroga è stato individuato in possesso di sì in 42 anni era proprio sì già conosciuto poi le forze dell'ordine è stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish e poi una volta che è stato perquisito è stato appunto scoperto questo pacchetto è stato riconosciuto come un uomo che aveva dei precedenti era stato per esempio segnalato per l'ubriachezza molesta nei giorni prima nei suoi confronti era stato elevato anche un provvedimento per di divieto di frequentazione del centro storico provvedimento che è stato in evaso e allora ci sono ancora dei delle azioni punitive nei suoi confronti e poi altre un'altra attrazione ha individuato un ventenne di origini extracomunitarie anch'esso già conosciuto ai carabinieri in possesso di un coltellino coltellino insomma che non doveva esserci nei pressi della stazione ferroviaria e l'uomo non è stato in grado di giustificare la detenzione di questa arma in un luogo pubblico allo stesso ventenne è stato notificato l'ordine di allontanamento dal luogo in cui si trovava e sempre in pieno centro storico un ragazzo di 19 anni è stato trovato in possesso di una dose di ascis per cui è stato segnalato quale assuntore alla prefettura questo per quanto riguarda l'azione dei carabinieri per cercare di prevenire poi reati ancora molto più seri e quali risse poi abbiamo visto quello che accade con vandalismi aggressioni e via dicendo altri articoli vediamo soprattutto quello che riguarda il funerale di rita talamelli la donna uccisa dal suo consorte dopo un problema che si è dilungato alquanto incancrenendosi all'interno del rapporto familiare per lunghi lunghi anni riservatezza e pietà l'addio alla donna uccisa anche il sindaco presente al rito celebrato ieri nella chiesa di san pio decimo c'erano molte persone a rendere così l'estremo saluto a questa donna che ha vissuto una vita normale fino a un certo punto fin quando poi la malattia ha avuto il sopravvento e purtroppo ha reso la vita impossibile anche all'interno della sua famiglia ma questo articolo poi si parla della donna ma parla anche del marito perché anche lui è stato una vittima e la gente si interroga ma più che si interroga riflette su quanto è avvenuto e su quanto si possono aiutare le famiglie che si trovano in questa situazione l'abbiamo visto ormai in diversi articoli sui giornali occorre fare di più per non lasciare le famiglie sole ad affrontare situazioni che a volte sono insostenibili e quindi arrivano a questo punto malefico riservatezza e pietà l'addio alla donna uccisa cambiamo completamente argomento e parliamo di un qualcosa di più come di più sereno ecco così voglio dire ieri è stata presentata l'iniziativa dell'amministrazione comunale di affidare ad un regista noto a Fano Andrea Ludovichetti la realizzazione di un film sul carnevale perché questo perché c'è stata l'opportunità di un finanziamento aumentato giunto dal ministero ministero di solito finanzia i carnevali storici ma quest'anno ha dato un qualcosa di più circa un milione che poi esse deve essere suddiviso tra tutti i carnevali che hanno più di 600 anni di età non sono molti sono 4 o 5 ma tra questi rientra anche Fano e Fano ha pensato di realizzare questo di utilizzare questi soldi per finanziare un film promozionale sul carnevale di Fano e visto il successo di pescamare un film un docufilm che ha girato tutto il mondo e ha promosso la città di Fano ebbene si è pensato di fare la stessa cosa per il carnevale Andrea Ludovichetti ha spiegato la sua iniziativa ieri di fronte alla stampa ha invitato la città a collaborare a così a cercare di rendere noti documenti fotografie filmati delle vecchie edizioni del carnevale e di fornire le proprie testimonianze il film dovrebbe essere pronto dopo l'estate del prossimo anno e vediamo ancora le pagine che riguardano il nostro territorio andiamo a terre roveresche dove abbiamo una nuova azione dei carabinieri i carabinieri sono intervenuti per dissuadere una donna che voleva farla finita e ha chiamato il 112 una ragazza salvata appunto dai militi telefona alla centrale il militare di servizio le parla e esperto conosce come affrontare questi problemi e riesce appunto a intrattenerla fin quando questa ragazza non viene individuata e i militi riescono a salvarla cioè a dissuaderla dal compiere questo gesto quanto aveva annunziato ebbene era a bordo dell'auto aveva raggiunto il cimitero di piagge oppure era lì nei pressi comunque stata individuata crolla a terra un palo della luce paura ma sfiola solo un'auto è accaduto a fossombrone e potevano esserci veramente gravi conseguenze per questo incidente ma per buona fortuna non è stato così in via la villa di ghilardino si è schiantato al suolo questo palo era un palo ormai così instabile a causa dell'usura a causa magari della vecchiezza appunto del palo stesso e per fortuna non ha provocato molti incidenti a fossombrone poi c'è questo appuntamento di rigo sacchi che presenta alle 18 del 4 dicembre al palazzetto dello sport il suo libro il realista visionario scritto con leonardo patrignani un appuntamento per tutti coloro che amano lo sport a monteporzio a monteporzio si fanno vivi i ladri i ladri si fanno vivi in modo particolare nei pressi delle festività quando magari c'è qualche soldino in più in cassa quando magari la gente esce di più da casa per fare compere ed ecco che i ladri in modo particolare quelli che vengono da fuori rubano e poi fuggono hanno fatto hanno fatto una serie di furti nella zona di monteporzio castelvecchio furti in sequenza in sei case spariscono un'auto e con tanti blitz in vari centri della val cesano rubano un armadietto con alcuni fucili e beh insomma è stata un'impresa veramente un ride ben preparato a castelvecchio una famiglia derubata nel sonno dei ladri che se la sono poi svignata fuggendo nelle campagne con i soldi e l'autovettura appunto della famiglia non c'è ancora traccia della Kia Stonic questa è la marca dell'auto di colore bianco che l'altra notte la banda si è portata via con sé e poi altri furti in altri casi comunque il furto più rilevante è stato calcolato per un valore di 1500 euro quindi abbiamo dei furti piuttosto contenuti ma la serie è impressionante giriamo ancora la pagina e siamo a Senigallia dove si parla delle iniziative natalizie non manca la pista di ghiaccio che ormai è una struttura in tutte le città perché veramente costituisce una fonte di attrazione importante in modo particolare per i giovani e poi ancora videomapping mercatini si accende il Natale anche a Senigallia venerdì prossimo si darà via alla Kermessico l'accensione dell'arbero partito l'allestimento della pista di ghiaccio sul parterre della Rocca e il mercatino di Natale in piazza del Duca la giunta ha approvato il pacchetto natalizio che parte venerdì quando si accenderanno tutte le luminarie e poi anche qui vediamo i furti ladri in fuga con la cassaforte nel weekend una raffica di colpi nel merino dei malvieventi di Marzocca e Montemarciano sono le due frazioni che sono state colpite di più dai raid ladreschi una donna è stata sorpresa nel sonno quindi attenzione cerchiamo di tenere ben chiuse le nostre abitazioni perché questo è un periodo veramente pericoloso ed ora vediamo qualche notizia di Pesaro dove si parla e ne parla anche il resto del carlino dobbiamo dire si parla della situazione delle case della situazione edilizia il valore delle case la frenata del mattone per comprare la casa non mutui ma risparmi il trend che viene evidenziato evidenzia un calo dopo il boom post covid sono i dati questi dell'osservatorio FIAIP la flessione colpisce soprattutto la periferia resistono però le abitazioni con giardino e diamo un'occhiata anche a questa tabella una tabella interessante che pubblica il Corriere Adriatico per quanto riguarda i prezzi delle case il valore delle case e vediamo che la casa che costa di più è quella situata quelle situate ovviamente in zona mare in Viale Trieste e nella zona Porto un appartamento nuovo in zona Porto viene valutato 3.800 o 4.800 euro al metro quadro mentre in Viale Trieste siamo leggermente ad una cifra inferiore 4.600 ma poi aumenta anche a 5.400 quando l'appartamento è nuovo e quindi abbiamo dei valori piuttosto sensibili dove costa di meno un'abitazione costa di meno a Borgo Santa Maria dove un appartamento ristrutturato viene valutato tra i 1.100 e 1.500 metri quadri questi un po' i valori che vengono evidenziati giriamo ancora la pagina e parliamo delle iniziative dell'ultimo dell'anno che sono state programmate a Pesaro le ha evidenziate ieri il sindaco Matteo Ricci che si trova a New York per promozionare il ROF e le ha evidenziate appunto ed è la notte di Capodanno pesarese ebbene chi saranno gli ospiti sono Colapesce di Martino e Lundini Capodanno leggerissimo in piazza da New York Ricci svela gli ospiti degli artisti che si esibiranno sul maxipalco il 31 dicembre ebbene Colapesce di Martino Valerio Lundini e Iva Zanichi sono gli artisti che si esibiranno sul maxipalco in occasione del Cater Capodanno una grande festa per tutti in piazza del popolo a Pesaro sarà un anno strepitoso ha dichiarato Ricci che apriremo al meglio insieme agli amici di Rai Radio 2 dalle 21.30 fino a tardanotte in piazza del popolo e in diretta su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre si potrà passare il 31 dicembre con gli storici conduttori della trasmissione Caterpillar e sarà ovviamente una serata molto molto animata quest'altro articolo invece pubblicato dal Corriere fa un ritratto di Sara Sara è la ragazza che era scomparsa da casa che è stata rintracciata ha avuto dei grandi problemi di seri problemi di droga e ora ha accettato di farsi curare il padre ringrazia chi ha contribuito a ritrovarla sono 20 anni che combattiamo contro la droga un dramma familiare veramente importante quello che alcune famiglie sono costrette a sopportare e si spera sempre nell'aiuto maggiore delle istituzioni. L'amianto resta nell'ex capannone a Monteciccardo l'amianto resta nell'ex capannone a Monteciccardo il comune non l'ha ancora rimosso il consigliere regionale Baiocchi richiama l'amministrazione comunale che aveva detto di intervenire per poi rivalersi sui proprietari ma ancora non l'ha fatto e secondo Baiocchi quel capannone continua a essere pericoloso. Ad Urbino si protesta per la soppressione del bus durante le festività se si togliano i collegamenti nei momenti più importanti del turismo e ovviamente tutta l'economia della città ducale ne risente. Una scelta assurda viene considerata quella assunta da ami e adriabus intervengono confesercenti e cisli i dirigenti dell'azienda dicono mancano gli autisti ormai da mesi chiariscono il presidente Lara Ottaviani e il direttore generale Massimo Benedetti di Adriabus stiamo presentando la complicata situazione in cui l'azienda si trova ad operare per mantenere un servizio sempre puntuale ed efficiente. Mancano gli autisti e quindi bisogna fare per forza dei tagli. Ebbene ora mettiamo da parte il Corriere Adriatico e apriamo il resto del Carlino. Ecco l'apertura sulla pagina di Fano. Si parla di Angelo Sfuggiti. Ho fatto una follia a Ammesso. Angelo Sfuggiti ormai è vigile, è sempre ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Muraglia di Pesaro e ormai conosce bene quello che è accaduto, ha acquistato la percezione di quello che ha fatto e forse purtroppo medita ancora di farla finita. Così come dice il resto del Carlino. L'uomo accusato dell'omicidio della moglie Rita Talamelli ha incontrato il suo avvocato in psichiatria. Si tratta di Susi Santi del foro di Pesaro che ieri è andata poco dopo a loro di pranzo a trovarlo nella camera singola del reparto di Muraglia. Il legale vede l'agente della polizia penitenziaria fuori della porta. Lui, il degente, è disteso nel letto e risponde a qualche domanda ma ancora non gli è stato chiesto perché e come è avvenuto insomma perché ha fatto, ma perché ormai lo si sa, come è avvenuto, come è maturato sull'istante perché non c'è stata premeditazione come lui asserisce, come è avvenuto sto fatto così eclatante e così degno di grandi riflessioni. Ma di questo abbiamo già parlato. Gira con un panetto di Ascis ai Giardini Amiani, è stato denunciato, si parla sempre del 42enne fanese che aveva dei precedenti per reati di droga che è stato trovato in possesso di un panetto di Ascis. Ed ora parliamo di fuori brodetto, questa grande iniziativa della Confesercenti che ha coinvolto una trentina di ristoranti e che ha così animato tutta la ristorazione per diverse serate, non solo a Fano ma anche in altri centri della provincia di Pesorubino compreso Pesaro. Ebbene, l'altra sera a Villa Piccinetti si svolta la finale tra i due chef che sono risultati in testa alla classifica. Ebbene, ha vinto il fuori brodetto il caffè del porto bistro di Fano che ha disputato la gara con lo scudiero di Pesaro. Finalmente una volta vince Fano su Pesaro, perché di solito con la moretta con il brodetto altre volte ha vinto Pesaro, insomma per Fano non è un gran successo. Questa volta invece Fano ha tenuto fede alla importanza di questo piatto che è tipico della sua gastronomia. Il brodetto fanese l'hanno inventato i pescatori fanesi e qui non ci piove. Lo scettro al caffè del porto bistro. Grande partecipazione alla serata finale del concorso che ha visto sfidarsi i ristoranti della provincia. Ebbene qui abbiamo la premiazione, ecco i due chef premiati. Questo è lo chef del caffè del porto bistro che ha vinto. Si tratta di Marco Pitrolo che ha vinto per il miglior brodetto un piatto saporito, un piatto che tiene conto appunto della tradizione ma con un pizzico di qualcosa che lo rende ancora più gradevole. Ed ora parliamo anche dell'area ex Agip a cui la sopraintendenza ha così espresso il suo parere. Il suo parere che prescrive alcune aggiunte, alcune innovazioni e bisogna metterci la fontana nel mezzo. Insomma questo non è molto gradito all'amministrazione comunale che ora la deve togliere da via Nazario Sauro e ricollocarla nell'ex Agip. e qui ci si è anche delle dichiarazioni sia dell'assessore Brunori che ha seguito il progetto e anche quella di Lucia Tarsi di Fratelli d'Italia che aveva sostenuto la tesi di ripristinare la fontana di Derenzi nel luogo di origine. A San Costanzo palestra inagibile, a tempo indefinito, servono interventi da 400 mila euro ma i lavori non si possono fare perché il Comune è in causa con la ditta e questo crea molti disagi per coloro che devono frequentare la protesta. Invece sulla statale della Val Cesano si attivano cantieri per oltre 2 milioni di euro e l'ha annunciato il Assessore alle infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli. Le opere per complessive 4,3 chilometri riguarderanno vari tratti dei Comuni di Mondolfo, San Lorenzo in campo e Tre Castelli. Il tempo utile previsto per i lavori è di 60 giorni dalla data della consegna. Quindi bisognerà fare anche piuttosto presto per utilizzare questi soldi. A Urbino, a Urbino Natale senza bus, così muore il turismo, l'abbiamo evidenziato, monta la protesta contro la decisione di Adria Bus di non circolare nelle festività. Un albergatore conseguenze anche in futuro perché insomma se si limita l'afflusso turistico durante le festività quando la gente è più libero ed è più propensa a fare queste escursioni fuori porta, oppure anche delle piccole vacanze, ebbene si pregiudica anche il futuro. Ma gli uffici della provincia quando arriveranno ad Urbino? Se lo chiedono Londei e Giovannetti. Paolini, il Presidente, dicono questi due, ci promise che sarebbero stati riaperti nel mese di marzo. Siamo a fine anno e nulla si muove. Ebbene Urbino vuole sentirsi provincia in tutto per tutto ed avere anche dei punti di riferimento, uffici provinciali, per non essere costretti ad andare a Pesaro in quanto se la disputa a pari merito con il capoluogo, anche Urbino è un capoluogo di provincia e così vuole esserlo a tutti gli effetti. E siamo in conclusione. Con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento, come sempre, alla giornata di domani. Grazie per l'ascolto. A risentirci.